buongiorno buongiorno a tutti cerco di raccogliere energie perché sono ancora molto arrabbiato vi dico la verità parto da questa cosa qua sono molto arrabbiato mi gira mi gira alle palle mi gira alle palle e non sono ancora riuscito a mandare giù è ancora notte fonda e non ho veramente voglia di scherzare non ce la faccio ancora a scherzare sono arrabbiato e la rabbia era da un po' che non la provavo però credo che si sia andati decisamente oltre peccato che non mi sia venuto in mente prima il titolo che poi ho dato al video post partita ho intitolato così ma dentro il video questa frase non la dico ma è un punto che per la storia della juve per la vera juve è una sconfitta ma per questa juve sembra quasi una vittoria perché un punto che aggiungi al calendario la classifica della zona champions ce ne vanno cinque in europa e quindi quasi passa come una sorta di vittoria perché hai comunque mosso la classifica sta roba qui non può essere vera anche perché ragazzi io purtroppo da settimane sono più ancorato alla speranza che perdano le altre cioè quelle che sono dietro l'atalanta la roma il bologna forse anche l'alassio a questo punto vedremo però spero più che perdano le altre piuttosto che vinca la juve perché è difficile pensare che possa vincere la juve e questa credo che sia la più grande sconfitta in generale questa è la cosa più brutta da dire in assoluto perché tutte le volte che prendo il telecomando accendo la televisione e metto in play la partita ho quella sensazione che forse non è una sensazione è più una certezza di poter perdere con tutti perdere non pareggiare non giocare non invece perdere so che posso perdere contro tutte le squadre in serie a se guardo il calendario abbiamo ancora dentro la salernitana che praticamente già retrocessa possiamo riuscire nella titanica impresa di perdere anche con la salernitana ce la possiamo fare anche perché adesso il calendario è tosto è milan bologna e roma ce le hai tutte e tre da affrontare nelle prossime gare di serie a non fare i tre punti con il cagliari è veramente vergognoso e quindi campacavallo che l'erba cresce bisogna cercare di trovare grande coraggio è veramente grande coraggio nel dire ma si dai sta comunque andando tutto bene ma si dai 12 punti in 12 partite fa lo stesso perché tanto noi siamo partiti con l'obiettivo di entrare in champions e anche se ce ne entriamo da quinti perché quest'anno ce ne sono cinque ma si dai va bene lo stesso 12 punti in 12 partite 12 punti in 12 partite 12 punti in 12 partite non so quante altre volte potrò dirlo ancora ma devo passarvi l'idea devo farvi rendere l'idea 12 punti in 12 partite e devo sentire che va tutto bene perché siamo in scia all'obiettivo di entrare in champions league quando si qualifica un quarto della serie a 5 squadre su 20 non ho veramente altro da aggiungere potremmo finirlo qui il video ma provo andare un po più dentro e provo a dirvi forza juventus perché dirlo adesso è più difficile quindi forza juventus perché dirlo adesso è più bello sperando che tutti i tesserati dentro a juventus si stiano vergognando per la qualità del loro lavoro negli ultimi due mesi e mezzo quasi a tre forza juventus vi dico che solitamente questo video della mattina è strutturato in maniera differente rispetto a quanto sto facendo ora ma non ne avevo ho dovuto staccare una mezz'oretta 40 minuti farmi un giretto bermi un bicchiere di coca cola cercare di staccare la mente io allegri ho visto mentre parlava dico visto perché non l'ho ascoltato non avevo la forza di farlo non ce la potevo fare non ne avevo voglia ascoltare delle parole vuote che andavano a rimarcare questo concetto della della champions non ce la facevo più anche perché ieri sera siamo riusciti ad eguagliare un meraviglioso record negativo vivo dalla nata di zaccheroni zaccheroni dato che abbiamo eguagliato il suo record e cioè ultime sei trasferte senza vittoria meraviglioso meraviglioso zaccheroni mi porta alla mente alcuni nomi come del neri ferrara ma anche lo stesso ranieri che sono stati tutti allenatori comunque esonerati tutti allenatori che sono stati esonerati ne aggiungo uno aggiungo un carico Ancelotti Ancelotti che in questi giorni è stato giustamente esaltato per la qualificazione raggiunta esaltato nella storia più che nella sostanza della partita però il Real Madrid butta fuori il Manchester City ecco noi anche con Ancelotti che è un allenatore che comunque con tutti i suoi discorsi tutti i suoi limiti è però storicamente la pagnota l'ha sempre portata a casa alla juventus ha fatto due stagioni e mezzo una da subentrato arriva a settimo secondo posto secondo posto e va a casa zaccheroni del neri ferrara ranieri ancelotti chi più chi meno perché tra questi citati alcuni hanno avuto a disposizione una super squadra come Ancelotti chi più chi meno ha avuto a disposizione delle juventus più forti meno forti tutti come normale che sia e questi sono saltati anche in meno tempo siamo stati lì a fare la radiografia alle rose o ci focalizzavamo sul fatto che la juventus stava facendo schifo uso dei termini forti è ora di iniziare a usare dei termini forti sono stati giocatori forti giocatori scarsi come ci sono in questa ma poi alla fine l'allenatore si toglieva sempre attenzione qui ci sono dei problemi sui giocatori lungi da me far passare il messaggio opposto anzi chiaro e tondo voglio dirvelo se noi siamo qui a dire che l'unico problema della juventus è allegri sì o allegri no stiamo mettendo la testa sotto la sabbia come gli struzzi perché il problema è molto più articolato molto più complesso ci sono dei giocatori che veramente se ne stanno fottendo 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 se ne stanno alcuni giocatori della juventus fottendo perché hanno in testa che la stagione è già finita tanto gli era stato chiesto quello e quello stanno portando a casa non esiste non esiste quindi non è solo allegri se allegri no ci sono tanti problemi però allegri è uno dei problemi forse il più grande problema anzi siccome senza il forse non ho ascoltato le parole di giuntoli leolette da un tweet di nico schira vi riporto il tweet dobbiamo rimettere a posto i conti per tornare grandi il prima possibile allegri siamo molto contenti del mister sta facendo un grande lavoro a fine anno lavoreremo per programmare il futuro insieme non c'è bisogno di un rinnovo di contratto ora siamo concentrati sui nostri obiettivi politichese ancora ed esclusivamente politichese con giuntoli che gioca al gatto e al topo sta giocando a nascondino con massimiliano allegri allegri che gioca nascondino con cristiano giuntoli stanno giocando veramente al ciapanò tutti e due allora a posteriore facile dico posteriore perché giuntoli parla nel pre partita io commento nel post partita dopo questa partita le parole di giuntoli che erano del pre partita quindi posteriore facile però vi dico che mi sono anche un po' rotto le palle sono anche un po' rotto le palle di questa comunicazione da parte della juve perché sono io il primo che vi ha spiegato che la juve fino a quando non arriva in champions su allegri non farà volare una mosca però delle due allora si sta zitti perché il grande lavoro il molto contenti in questo momento ripeto è facile a posteriore ma lascia un po' tempo che trova perché stiamo parlando di juventus che ha fatto 12 punti nelle ultime 12 partite io non so quanti allenatori della juventus nella storia con 12 punti 12 partite non sono poi stati esonerati anche in corsa mi piacerebbe chiedere a giuseppe pastore forse l'unica persona nell'iperuragno che può rispondere a questa domanda però qui la situazione è grave e anche dal punto di vista comunicativo da parte di un dirigente della juventus mi piacerebbe quel qualcosa in più perché credo che oggi il tifoso abbia tutto il diritto di sentirsi preso in giro da tutta la juventus tutti i tesserati quando si parla di una squadra ricordatevi di mettere in gioco sempre tutte le figure quindi io anche un comunicato lo apprezzerei un comunicato in cui si dice quello che si vuole fare non lo faranno perché non lo faranno però allora silenzio adesso giochiamo la partita poi ne parliamo stop stop perché è finito il tempo delle mele ragazzi finito veramente il tempo delle mele la juventus non può più non davvero da livello comunicativo non si può più pretendere ancora questa pazienza nei tifosi la stagione è quasi finita non è finita per i giocatori lo sembra per l'allenatore lo sembra ma non è finita non è finita forza juventus lo ripeto è difficile oggi difficile ma bello juventus inteso come colori come storia come maglia non come dirigente allenatore o giocatori forza juventus